E io ringrazio Andrea Bozzi perché Roma di Sera ci dà sempre l'occasione di tornare a parlare anche oggi della FIAIP, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali. Vado subito a presentarvi il nostro ospite, siamo in compagnia del Vice Presidente Nazionale di FIAIP, Giuseppe Sullutrone. Buonasera e benvenuto a Radio Roma Television. Buonasera a voi e grazie. Grazie a lei di essere qui. FIAIP ogni volta ci consente di entrare nel merito di quelli che sono i temi caldi del mercato immobiliare, del ruolo degli agenti immobiliari. E soprattutto di farlo attraverso i tanti professionisti che lavorano nella federazione e che vengono a trovarci, che stiamo conoscendo di volta in volta. Una realtà che da oltre 45 anni rappresenta un punto di riferimento, di consulenza e di informazione importante per gli associati e non solo naturalmente. Per cominciare, dottor Sullutrone, le chiederei intanto magari il punto della situazione del mercato immobiliare in Italia, magari con un accenno anche alla situazione di Roma e del Lazio, su cui lei è in prima linea. Come si prospetta l'andamento attuale quindi rispetto a un settore che evidentemente si conferma decisivo per l'economia nazionale? Sicuramente il post pandemia ci ha permesso di riprendere nuovamente le transazioni immobiliari e sappiamo che lo scorso anno ci sono stati un numero importante di transazioni. Le persone sicuramente hanno necessità di avere spazi diversi rispetto a quello che era il pre pandemia e oggi lo stanno forse riscontrando. È chiaro che il mercato ha delle situazioni ovviamente differenti a livello della nostra regione, quindi del Lazio, ma anche a livello italiano. Sicuramente si punta molto su immobili che abbiano delle caratteristiche di vivibilità, ovviamente seguendo anche il nuovo cambiamento del green che abbiamo in questo momento e quindi sicuramente molto attivo e molto vivace come mercato. Bene, oggi però approfittiamo della presenza del dottor Sullutrone in qualità di esperto dei temi legati all'innovazione tecnologica che evidentemente investono in maniera rilevante anche questo settore. In effetti parlando proprio di innovazione e di tecnologia, FIIP ha da tempo avviato una digitalizzazione, una vera e propria rivoluzione digitale che è ormai divenuta assolutamente centrale. In che modo è stata realizzata? Già fin dal 2017 la nostra federazione ha messo in campo una procedura per dare una tranquillità, una serenità nell'acquisto immobiliare. E già nel 2018 con l'uscita della PDR 40 2018 che è sostanzialmente una procedura che spiega esattamente qual è l'intero metodo che viene utilizzato dagli agenti immobiliari, quindi non necessariamente FIIP. È una ricerca di una metodologia che permetta al cliente di poter procedere serenamente all'acquisto di un immobile e ovviamente per il venditore una garanzia, una tranquillità per poter arrivare alla transazione immobiliare. In quel senso noi abbiamo cominciato a pensare che era forse il caso e siamo stati in questo senso precursori rispetto al post pandemia che ci ha portato ad un'accelerazione, mettere in campo quindi una digitalizzazione della compravendita, quindi delle piattaforme che sono a disposizione ovviamente dei nostri associati, insieme a una serie di servizi correlati che permettono quindi di poter acquisire in maniera digitale, rapida e dando l'opportunità a tutti di avere documenti in tempi estremamente brevi che possono essere determinanti per la conclusione di un attore. Effettivamente parliamo di due piattaforme importanti, Refiaip e Unafiaip. Magari ce le accenna un pochino e poi entriamo nel merito di una e dell'altra. Sono sicuramente due piattaforme che seguono due canali paralleli della compravendita immobiliare. Unafiaip segue da metodologia e quindi permette a tutti i nostri associati, quindi all'agente immobiliare, di poter svolgere in maniera completamente digitale una compravendita partendo dalla fase principale dell'inizio di una compravendita immobiliare che è quella della corretta valutazione dell'immobile, del controllo documentale, rilasciando ovviamente anche un rapporto valutativo e quindi dando al nostro venditore, quindi al proprietario dell'immobile, qualunque esso sia, una corretta valutazione. Si passa poi ovviamente alle fasi normali della nostra compravendita che sono l'incarico, l'eventuale condivisione con i nostri colleghi che ovviamente vogliono collaborare per arrivare poi al punto finale che è quello della transazione immobiliare, quella sottoscrizione della proposta. Tutto questo che normalmente nel corso degli anni veniva fatto in maniera cartacea, andando poi a trovare situazioni e fogli da una parte e dall'altra, noi lo riusciamo a far svolgere all'interno della nostra piattaforma in maniera completamente automatizzata. Quindi l'associato, l'agente immobiliare, può svolgere l'intera pratica acquisendo tutte quelle che sono le notizie sull'immobile e la documentazione necessaria. Refiaip invece, che è l'altra piattaforma, che è una piattaforma che nasce per poter dare un servizio al pubblico, quindi parliamo di grandi patrimoni immobiliari o eventuali immobili di proprietà di enti, dello Stato, dei comuni, e quindi mette in campo l'opportunità, la possibilità di poter digitalizzare, avendo in campo insieme con noi il nostro cliente all'interno della piattaforma. E quindi tutte le operazioni vengono svolte direttamente in forma digitale. Ecco, diciamo una rivoluzione digitale che in qualche modo offre agli agenti immobiliari un nuovo metodo di lavoro, al contempo garantisce una maggiore sicurezza anche delle transazioni, quindi del mercato immobiliare, e soprattutto due piattaforme che portano il messaggio di trasparenza e giusta valutazione, come ci diceva il dottor Sullutrone, veicolati da sempre dalla federazione, proprio ai fini di una corretta compra-vendita e transazione immobiliare. Sostanzialmente l'obiettivo è proprio questo, dottor Sullutrone, una transazione corretta a prezzo ma anche a garanzia dell'utente finale. Assolutamente sì. La procedura vuole proprio portare questa tranquillità sul mercato. È una situazione che abbiamo visto e vissuto negli anni precedenti. Abbiamo sempre avuto questo conflitto tra il venditore e l'acquirente. Quindi noi diamo degli strumenti, ovviamente, e un'assistenza che permette a tutte e due le parti di arrivare a questa transazione in maniera tranquilla e serena. Anche perché rimane sempre comunque una delle operazioni più importanti che una persona fa all'interno della propria vita. Esatto. E proprio per quanto riguarda Refi Aip, ce lo spiegava, insomma, e che permetterà appunto di lavorare con i grandi patrimoni immobiliari, sappiamo che state svolgendo in tutta Italia anche i corsi per l'utilizzo di questa piattaforma. Come sta andando? Ma sta andando molto bene. Diciamo che questo progetto è iniziato nel 2019, poi, come sappiamo tutti, ha avuto un fermo dovuto al problema della pandemia. Abbiamo ripreso nella metà del 2021, sono tutti corsi in presenza, in cui noi spieghiamo ai nostri associati esattamente tutte le due le procedure riguardanti le piattaforme correlate da una serie di servizi che stiamo mettendo in campo come federazione. Quindi le piattaforme sono una digitalizzazione della compra e vendita immobiliare che può essere tra privati o per i grandi enti. Tutte e due insieme riescono quindi a coprire il 100% delle necessità del mercato. E questo, devo dire, che sta riscontrando un grande successo. Così, abbiamo incontrato nel corso del tempo, io sono in giro insieme a una mia carissima collega, vicepresidente nazionale di FIAIP, con la delega alla formazione, Monica Andreotti, e insieme stiamo incontrando, abbiamo incontrato fino adesso, penso, un paio di migliaia di associati, quindi di agenti immobiliari, a cui abbiamo presentato il progetto della nostra federazione che è il punto focale della nostra federazione. E sicuramente, proprio nell'ottica del cambiamento storico che riguarda la professione dell'agente immobiliare, la tecnologia fa la sua parte proprio, appunto, anche per quanto riguarda quella che è la formazione, l'aggiornamento professionale e continuo degli operatori, a garanzia soprattutto della vostra affidabilità. Assolutamente, sì. È chiaro che questo è uno dei canali della nostra formazione. Ovviamente, insieme con questo e vicino a questo, ci sono tutta una serie di opportunità, sempre digitali, perché la federazione ha messo in campo, tra l'altro, l'opportunità di fare tutta una serie di corsi di formazione e noi abbiamo anche la certificazione dell'agente immobiliare, quindi abbiamo tutta una serie di opportunità, di possibilità per l'agente immobiliare che, se vengono seguite, ovviamente ci permettono di lavorare al meglio a noi e dare un miglior risultato nella compravendita immobiliare. Quindi questo è sicuramente il punto importante della nostra federazione, penso che sia proprio una delle condizioni necessarie allo svolgimento dell'attuale situazione che noi abbiamo sul mercato, che tra l'altro è costellata di una serie di leggi che ci obbligano sostanzialmente a un aggiornamento quotidiano per la formazione. Anche perché, come ne parlavamo nelle puntate precedenti, la legge ci dice come diventare agente immobiliare ma non come svolgere poi l'attività. Quindi, insomma, quello è l'elemento e il punto di forza anche questa formazione e aggiornamento continui. Tra l'altro, fuori onda, ci diceva, anche l'utente finale, il cliente più preparato, forse anche gioco forza alla pandemia e tutte le operazioni a distanza che ormai sono state digitalizzate, è più pronto però, anche nel caso di una compravendita immobiliare? Assolutamente sì, diciamo che c'è stata una forte accelerazione anche da parte dell'utente finale. Quindi, in questo momento, se riusciamo a far combaciare questa accelerazione della parte digitale dei nostri clienti insieme ai servizi che noi riusciamo a dare attraverso la nostra federazione agli agenti immobiliari, sicuramente non possiamo fare altro che accelerare i tempi e dare maggiore tranquillità. Quello che a noi interessa è rendere tranquilla la compravendita immobiliare, serena e tranquilla la compravendita immobiliare con la garanzia che gli immobili vengano preventivamente controllati e che quindi si abbia la tranquillità e la certezza di arrivare ad una compravendita immobiliare che in questo momento, riteniamo, possa essere fatta per la maggior parte dei casi, addirittura online, in distanza, lavorando su sistemi digitali. E queste novità riguardano anche la campagna di tesseramento, le nuove iscrizioni in FIAIP che ormai confermano che siete totalmente digitali, un contributo ulteriore, lo abbiamo detto, in piena continuità con quel circolo virtuoso della transizione ecologica e digitale dei servizi immobiliari che in realtà la federazione ha avviato già da tempo. Quindi un altro versante forte da questo punto di vista su cui forse siete tra i primissimi. Sicuramente c'è un interesse e un'attenzione alla trasformazione e quindi questo segue ovviamente tutti i settori della nostra attività, tutti i settori della nostra federazione. è chiaro che per esempio l'iscrizione online quindi digitalizzando tutta una serie di attività riusciamo ad accelerare sia sulle tempistiche di risposta ma anche per dare un servizio migliore. Diciamo che eliminiamo gli spostamenti quindi sicuramente tanta benzina in meno e tanto tempo risparmiato. È sicuramente un altro vantaggio. Bene, diciamo molti spunti che ci aiutano a capire anche i nuovi fronti, le sfide da affrontare anche da un punto di vista dell'innovazione tecnologica e poi naturalmente ci teniamo a dare con questo spazio le informazioni utili agli associati e professionisti ma anche alle famiglie italiane insomma a noi tutti come acquirenti, come proprietari. Magari potremmo dare qualche informazione in più in chiusura di puntate anche a quelli che sono un pochino i benefici, i vantaggi, i servizi che la federazione offre e in qualche modo cosa significa iscriversi a una federazione forte e grande come FIAIP? Sicuramente per quanto riguarda diciamo dalla parte dell'agente immobiliare iscriversi in FIAIP è una situazione che permette di svolgere la propria attività con una serie di servizi che possono dare all'agente immobiliare quella famosa tranquillità e quindi quella accelerazione nel campo della ricerca e della diciamo della preparazione della valutazione per il nostro cliente. Gli servizi diciamo che noi li stiamo attivando ormai giornalmente facevo notare proprio la scorsa settimana durante un corso quanto sia diciamo in fase di accelerazione questa trasformazione e noi dobbiamo seguirla e trasmetterla. parlavamo e parlo anche per esempio soltanto della carta di identità elettronica che tutti noi abbiamo all'interno del nostro portafoglio a ieri sostanzialmente quasi 34 milioni di italiani hanno questa tesserina nel loro portafoglio e quella ormai permette sicuramente di accelerare di ritirare di recuperare tutta una serie di documenti che sono necessari proprio per la compravendita immobiliare ma pochi lo sanno perché nella maggior parte dei casi molti perdono il PIN e proprio per questo è possibile adesso anche fare questa forma di recupero del PIN e quindi avere a disposizione tutta una serie di documenti che prima non è diciamo c'erano dei tempi molto biblici per poterli tirare fuori e questo è uno dei tanti strumenti che oggi noi abbiamo a disposizione e mettiamo a disposizione ovviamente anche all'interno dei nostri sistemi digitali bene noi naturalmente invitiamo sempre chiunque volesse saperne di più volesse entrare in contatto in comunicazione con i professionisti della FIAIP che sono sempre a vostra disposizione a visitare il sito ufficiale della federazione www.fiaip.it io ringrazio il vicepresidente nazionale di FIAIP Giuseppe Sullutrone grazie per essere intervenuto grazie a voi per avermi invitato speriamo tornerà presto a trovarci perché insomma continueremo a parlare delle novità e delle evoluzioni che riguardano la vostra attività la vostra professione quindi ci fa piacere approfondirle insieme sarà sicuramente un piacere grazie bene io ringrazio tutti voi per l'attenzione ci vediamo al prossimo incontro vicinissimo la linea torna ad Andrea Bozzi alla sua Roma di sera a me non resta che augurarvi un buon proseguimento in compagnia dei programmi della nostra rete arrivederci a tutti una buona serata